la force plus è una pistola semiautomatica in singola e doppia azione con fusto polimerico in questo modello che nasce per il porto prolungato la precisione e la velocità tipiche del tiro sportivo incontrano la leggerezza e l'ergonomia richieste dall'uso quotidiano il carrellino acciaio presenta infatti un nuovo disegno progettato per una facile manipolazione anche in situazioni di forte stress abbiamo poi una smussatura sulla parte anteriore della volata per facilitarne l'inserimento in fondina il carrello è disponibile con due finiture a scelta brunito nero o cromato nonostante le dimensioni da full size abbiamo un peso contenuto infatti l'arma pesa solamente 895 grammi totali la canna è lunga 112 mm per una lunghezza complessiva di 208 mm per quanto riguarda le sicure la pistola presenta una sicura automatica percussore e una sicura manuale sul lato sinistro dell'arma le mire sono di tipo fisse e sostituibili con riferimenti bianchi per una facile acquisizione abbiamo poi nella parte inferiore del dust cover la presenza di un rail per il montaggio di accessori la force plus è camerata per i calibri 9x19 e 9x21 con una capienza di 15 colpi e per il calibro 40 con una capienza di 12 colpi